Una giornata gratuita dedicata all'innovazione per proporre alle imprese gli strumenti e le opportunità concrete per fare innovazione. È quella organizzata per mercoledì 25 settembre a partire dalle 9 dalla Camera di Commercio di Prato all'interno della sede dell'ente. L'evento si concentrerà sui cambiamenti che la cultura dell'impresa 4.0 e dell'innovazione portano al nostro tessuto produttivo con l'obiettivo di accrescerne la competitività. Saranno presentati casi aziendali di successo e alcuni progetti innovativi già realizzati in città per mostrare come la tecnologia e l'innovazione possono aiutare a sviluppare i business delle aziende del territorio. Durante la giornata si svolgeranno dei workshop pratici sulle competenze digitali. A un anno dall'apertura del PID, punto impresa digitale della Camera di Commercio, abbiamo pensato di fare una giornata interamente dedicata all'innovazione, quindi dedicare dopo un anno di attività una giornata per le nostre aziende, non solo quelle che si sono rivolte al PID in questo anno, ma anche tutte le aziende che già fanno innovazione e quelle che intendono farla. Per cui abbiamo pensato a una giornata in cui invitare innanzitutto chi su Prato fa già innovazione da tempo, quindi soggetti istituzionali ma anche imprese. Ci sarà infatti il PIN di Prato, ma ci saranno anche casi aziendali di aziende pratesi e non che hanno innovato e fanno innovazione, che ci presenteranno la loro esperienza e la loro metodologia. In più abbiamo invitato tutte le aziende che in questi anni hanno sentito parlare di innovazione e spesso pensano che sia un concetto riservato solo a grandi aziende, mentre in realtà oggi l'innovazione si fa anche non soltanto attraverso la tecnologia, ma anche attraverso nuove metodologie di lavoro e quindi in quello noi tendiamo appunto a presentarci. Da circa un anno la Camera di Commercio di Prato ha attivato il PID, il punto impresa digitale, un servizio che vuole accompagnare le aziende nella digitalizzazione. Noi siamo abbastanza contenti, siamo partiti a ottobre dell'anno scorso e chiaramente siamo nella provincia l'ultimo soggetto che si è presentato in questo segmento, tuttavia noi siamo consapevoli di essere un punto di primo approccio, quindi siamo soprattutto per le aziende piccole e medie che intendono avere un primo ausilio sull'innovazione, siamo consapevoli che ci sono già soggetti che già da anni operano sul territorio, ma proprio per questo miriamo a essere anche un punto di coordinamento fra i vari soggetti e di indirizzo per le aziende, perché le aziende che vengono al PID di Prato, della Camera di Commercio, possono avere un orientamento anche verso soggetti che già da tempo operano e quindi giustamente possono avere una maggiore specializzazione, soprattutto in termini settoriali.